ciao da fatina birichina e spingy picchio è la mattina del 29 giugno e siamo venuti a vedere cosa è successo al nostro veliero di san pietro magia magia da uno sono diventati due esperimento riuscito in maniera molto strana non vediamo le vele però ci hanno detto che può succedere allora sono due velieri collegati uno con l'altro bene quindi noi vi salutiamo e ci riproveremo l'anno prossimo ciao buona giornata